Buongiorno, sono Emilio Milano, sono il titolare di Mid Italy Group e past president di MPI Italia Chapter, sono nell'industria dal 1983, penso che attualmente è facile incorrere un errore nell'organizzazione di eventi, l'errore che normalmente è più semplice fare o che normalmente può capitare è quello di sottovalutare l'esigenza del cliente o pensare o riflettere verso il cliente il proprio modo di vedere l'esigenza senza tener conto di quelli che possono essere i suoi valori fondamentali.